Amici, qua ci sta il vostro cafone, che non vada, sta sempre qua. E curro, 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 sarciamone, tu sai a strada, non puoi sbagliare, ma aspettano i criatori e picchiarella, per due canzone e quattro satella. E curro, 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 sarciamone, che ha trasmissione a bimba fa. Noi in un'immagrante presunzione, un'immagrante di raccampare, scordarci cose brutte da sto mondo, ogni momento ci fa guardare. Guerra, le piene morte, camicazze, tutta sta roba a noi ci fa scivazze, e chi sto scopo della trasmissione, che ha depressione, non ha da cacciare. E curro, 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 sarciamone, che ha trasmissione a bimba fa. Guagliarolo! Comandi, maresciallo? Guagliarolo, ve l'ho detto anche la settimana scorsa, bisogna fare un po' di ordine, teniamo tanto che la mollezza, tanto che la mollezza in questo ufficio, che non ci potremmo muovere più, faremo il tunnel e l'indasca del letto. Troppe carte, cartuscello, carte, cartuscello, tritovizzi e stivate, stivate, la mania di conservare sempre. Per piacere, trovate il rimedio, per fare un po' di spazio. Non voglio prendere tutte queste carte, cartuscello, per tutto male. E io mi sono già organizzato. Bravo, Guagliarolo! Ho deciso di prendere tutti i fascicoli vetti da dieci anni e li vado a bruciare. Bravo, bravo, Guagliarolo! Bruciateli tutti quanti! Però per sicurezza, prima di bruciare, facete le fotocopie! Signor Sepe, che piacere vederla dopo tanto tempo, la vedo un po' agitato, un po' nervoso. Ma qual è il suo problema? Dottor, io sto un po' agitato, perché mi sta succedendo un fatto strano. Dottor, io parlo al dottore, ma parlo anche all'uomo di mondo. All'amico! All'amico! Mi consente, all'amico! Io, dovete sapere, che io ieri stavo sul lavoro, al lavoro, mi senti poco bene. Piglia e torna a casa. Torna a casa, dottore mio. E chi trova? Quella svergognata di mia moglie a letto con un uomo. Non ci vorrei più, dottor? Eh, certo. A un certo punto, prendete la pistola, e stavo sparando, e mi diceva, no, salvato, che fai? A cui fai? Calma, ti pensaci bene, fai una cosa, per me sparare, vai al bar, prenditi un caffè, e poi vieni qua. E così fece. E tu, bar, mi prendi un caffè, e vado a torna a casa, che mi sono venuto, mi sono venuto. Bravo, signor Sepe, lei è un uomo saggio. Grazie. Un uomo saggio. Sì, ma non è finito, dottor? No, no, perché il giorno dopo, andate a voto, mi sono venuto tornare a casa, mentre stavo tornando a casa, perché la cacchiappa, stava disgraziata, andate a voto, rindurre, con un altro uomo. Un altro? Un altro uomo saggio, stavo da facci fuori, pigliate la pistola, no, sabato, e che fai, no, pensi a boh, prendete un bar, prendete un caffè, e tornate a casa. Un altro caffè? E ho fatto così, e così il terzo giorno, un terzo uomo. Dottor, io mi volevo sapere, dite, ma tutti questi caffè, ma questo ne fa male a me? Buonasera, Occhiettore, che ci resti tu? Buonasera, buonasera. Oè, Checco, facetelo passare, questo fa un struduto, è il tuo muro libero. Ciao, Checco, Checco, senti, tu mi servi sempre, sai perché? Perché tu sei l'emblemo, eh? Che poi non quando parlo in italiano, sei l'emblemo dell'allegrezza, della giovialità, e tutto questo. Meno male. Perché la gente si fissano l'oreo e il dito, ma che si fassano il dito, ma che fatti non sei il cristiano, questo da uomo. Mentre invece tu, bello, 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 sei la simpatia per se... Occhiettore, mi devi fare un giuramante, che tu facciano i nomi e parole, che se 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 se... Tu sei un uomo di merito, questo è un uomo di merito, veramente. Questa stagione, quando vado a fare le feste di piazza, tu vieni a presto a me. Come no, vengo sempre a presto a te. Eh, tu porti pure a che le devo fare. È normale. Eh, vai, balla, dai un po' di gioia per tutti gli atturrumoni, gli attusiti, bello! Vai, Checco, vai! Vengo sempre a presto a te. Sous-titrage ST' 501 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 Allora, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501